La battaglia di Varsavia, consacrata al Sacro Cuore, la Polonia fermò i comunisti. Lunedì 27 luglio, nella chiesa delle suore visitandine a Cracovia, è stata celebrata una messa di ringraziamento nel centenario dell'atto di consacrazione della nazione polacca al Sacro Cuore di Gesù. Nel 1920, di fronte alla minaccia bolscevica, i vescovi polacchi si radunarono a Jasnagora, sotto la guida del primate polacco, il cardinale Edmund Dalbor, e il 27 luglio, appunto, consacrarono la nazione e l'intera patria al Sacro Cuore di Gesù, ribadendo l'atto di elezione della Madonna a Regina della Polonia. Nel momento in cui nuvole scure si radunano sulla nostra patria e sulla nostra chiesa, gridiamo come i tuoi discepoli sorpresi da una tempesta in mare. Signore, salvaci, perché stiamo morendo. E come una volta, stendendo la mano destra con una sola parola, hai calmato la tempesta, ora, signore, allontani il pericolo che ci minaccia, supplicavano i vescovi. L'episcopato si impegnò quindi a diffondere tra i fedeli, specialmente nei seminari, la devozione al Sacro Cuore di Gesù e incoraggiare le famiglie a consacrarsi a lui. Di quali nuvole scure parlavano i vescovi polacchi? Nel 1918, un anno dopo la rivoluzione bolscevica, il Consiglio del Commissario del Popolo, cioè il governo bolscevico, prese la decisione di formare nell'ambito dell'Armata Rossa la cosiddetta Armata Occidentale, per realizzare militarmente la rivoluzione mondiale. Il 10 marzo 1920 a Smolensk ebbe luogo una riunione dei capi dell'Armata Rossa del fronte occidentale e dei commissari comunisti, tra cui anche Stalin, che presero delle decisioni circa l'attacco alla Polonia e all'Europa, che doveva svolgersi lungo la traiettoria Varsavia-Pozenan-Pozenan-Berlino-Parigi. Nell'estate del 20 l'Armata Rossa avanzava minacciosamente verso il fiume Vistola, fino alle porte di Varsavia. In queste circostanze i vescovi polacchi presero la decisione della consacrazione della nazione polacca al Sacro Cuore di Gesù. Nello stesso tempo, per smuovere le coscienze di tutti, inviarono delle lettere alla nazione, agli episcopati del mondo intero e al Papa, chiedendo a Benedetto XV la benedizione e preghiere per la Polonia minacciata dai bolscevichi. Nella coraggiosa lettera alle chiese del mondo, i vescovi davano un'analisi puntualissima della situazione, scrivendo «La Polonia non aveva intenzione di combattere, vi è stata costretta, e inoltre non combattiamo affatto contro la nazione, ma piuttosto contro coloro che hanno calpestato la Russia, che ne hanno succhiato il sangue e l'anima, aspirando a occupare nuove terre. Come uno sciame di cavallette che dopo aver distrutto ogni segno di vita in un luogo si sposta altrove, costretto alla propria azione distruttrice a migrare, similmente ora il bolscevismo, avvelenata e saccheggiata la Russia, si volge minaccioso verso la Polonia. Ma i vescovi, prima di tutto, volevano attirare l'attenzione del mondo sul fatto che i polacchi non fossero il sole ad essere minacciati. Per il nemico che ci combatte, la Polonia non è l'ultima meta della sua marcia, è piuttosto una tappa, una piattaforma di lancio verso la conquista del mondo. L'espressione conquista del mondo non era per nulla troppo ardita, perché il bolscevismo ha avvolto con una rete sovversiva, come un ragno, nazioni lontanissime dalla Russia. E oggi tutto è pronto per questa conquista del mondo. In tutti i paesi vi sono schiere già organizzate, che aspettano soltanto il segnale di battaglia. Fervono i preparativi di continui scioperi che dovranno paralizzare la vita normale delle nazioni. La discordia fra le diverse classi sociali si sta rafformando in un odio esasperato e influenze internazionali bloccano assolutamente ogni giudizio e autodifesa delle nazioni. Allora tutti dovevano essere coscienti che in questa situazione la Polonia è l'ultima barriera posta sulla strada del bolscevismo verso la conquista del mondo. Se dovesse crollare il bolscevismo si espanderebbe nel mondo intero con tutta la sua potenza distruttrice. E l'ondata che oggi minaccia di invadere il mondo è veramente terribile. I vescovi polacchi sottolineavano che Rissio corresse la chiesa con il bolscevismo. Oltre alla dottrina, all'azione, il bolscevismo porta nel suo petto un cuore pieno di odio e questo odio è rivolto soprattutto contro il cristianesimo, di cui è decisamente una negazione. Si rivolge contro la croce di Cristo, contro la sua chiesa. Il bolscevismo è proprio l'incarnazione e la manifestazione sulla terra dell'anticristo. Parole chiare e vere che non tutti in occidente volevano sentire. Purtroppo il mondo rimase sordo alle richieste di aiuto dei polacchi. Sembrava che tutti, anche le cancellerie occidentali, fossero rassegnati alla vittoria comunista e paralizzati. Non facevano niente. Una lodevole eccezione fu l'Ungheria, che fornì alla Polonia gli armamenti e le munizioni, facilitando anche il trasporto delle armi dall'Occidente. Invece nelle viarie chiese cominciarono le preghiere per la Polonia, sollecitate dallo stesso pontefice. Il 5 agosto, nel letto quindicesimo, inviò al cardinale vicario di Roma, Basilio Pompili, una lettera che esprimeva tutta la vicinanza del Papa al popolo polacco. «Signor cardinale, con vivo compiacimento abbiamo appreso che ella, seguendo il nostro suggerimento, ha ordinato che domenica prossima nella venerabile chiesa del Gesù siano innalzate fervide e solenni preghiere all'Altissimo per invocare le misericordie del Signore sulla sventurata Polonia». Gravissime ragioni ci inducono a bramare che l'esempio dato da lei, signor cardinale, sia seguito da tutti i vescovi del mondo cattolico. È nota infatti la materna ansiosa sollecitudine con la quale la Santa Sede ha seguito sempre le fortunose vicende della nazione polacca. Quando tutte le nazioni civili si inchinavano silenziose dinnanzi alla prevalenza della forza sul diritto, la Santa Sede fu sola a protestare contro le inique spartizioni della Polonia e contro la non meno inique oppressione del popolo polacco. Ma ora vi è molto di più. Ora non solo è in pericolo l'esistenza nazionale della Polonia, ma tutta l'Europa è minacciata dagli orrori di nuove guerre. E quindi non è soltanto l'amore verso la Polonia, ma è l'amore verso tutta l'Europa che ci muove a desiderare che i fedeli tutti si uniscano a noi nel supplicare l'Altissimo affinché per intercessione della Vergine Santissima, protettrice della Polonia, voglia risparmiata al popolo polacco questa suprema sciagura e nello stesso tempo voglia allontanare questo nuovo flagello della dissanguata Europa. La massiccia campagna di preghiera della Chiesa intera veniva derisa dagli ambienti socialisti e comunisti in Occidente. Il giornale socialista Avanti così derideva l'iniziativa del Pontefice. Il Papa fa assegnamento sull'intercessione della Madonna. Sta fresco il Romano Pontefice se crede nell'efficacia della Vergine. Tre milioni di soldati indossano la divisa russa. Questi soldati e i loro cannoni verranno assai più che non tutti i rosari del mondo. Fra giorni ne avremo la prova. Ma la realtà doveva smentire le sprezzanti parole dei rivoluzionari italiani. Allo scontro finale tra l'esercito polacco guidato dal maresciallo Pilsudki e l'Armata Rossa si arrivò nei giorni dell'assunta del 1920. La battaglia di Varsavia venne combattuta per più di dieci giorni dal 13 al 25 agosto. Malgrado la superiorità numerica dei soldati bolscevichi l'esercito polacco sconfisse i comunisti. Quest'anno si celebra il centesimo anniversario di questa epica battaglia che è passata la storia come il miracolo sulla vistola. Ma nasce una domanda. Chi vorrà ricordare la vittoria dei polacchi che cento anni fa salvarono l'Europa dal comunismo?